A Dagnano la quinta corsa al premio Lorenz, una condizionata per anziani di 5-6 anni sui 2100 metri in salchi, ci sono i gentlemen. Sette concorrenti al via, lungo i paletti Bizia di Casei, Brezza Ducras, Castaldo Cass, Cartesio P, Boston Lewis, Brevard Grif e Belgiacomino Parca. Brevard Grif, dal largo dello schieramento scavalca tutti, converge lungo i paletti. Precedere Bizia di Casei e Brezza Ducras, gruppo chiuso dal favorito Boston Lewis. Si scatena Brevard Grif, lancio in 13-7 e acquisisce circa tre lunghezze di vantaggio su Bizia di Casei, Brezza Ducras si è sistemata terza, Castaldo Cass, quarto, poi Cartesio P. 28 e mezzo il quarto iniziale, fatica a moderare gli ardori del figlio di Varenne, Ciro Ciccarelli. Arriva a 600 velocissimi in 43-3. Brevard Grif scatenato, poi Bizia di Casei, Bezza Ducras, Castaldo Cass, Cartesio P, Belgiacomino Parca e Boston Lewis, un po' pigro, un po' remissivo. Fa fatica a trovare l'azione giusta, anche perché davanti si va di gran lusso, 57-2, gli 800, primo chilometro volato in 1-11 e mezzo. Bizia di Casei, di Cuccia il gap, poi Brezza Ducras, Castaldo Cass, ha sbagliato Cartesio P. Si arriva così a 800 dalla conclusione, muove a largo Castaldo Cass, frazione in curva in 15-2, torna ad accelerare Brevard Grif, destra libera per Brezza Ducras. Castaldo Cass, dopo aver mosso a largo, non progredisce, anche perché davanti c'è un'altra frazione sostenuta in 14-7. Brevard Grif ha fatto selezione sin dalle prime battute, in bocca la curva conclusiva, in chiaro vantaggio, miglio ultimato in 1-55-9. Brevard Grif, inseguito da Brezza Ducras, poi Bizia all'interno e Belgiacomino K. Parc, retta d'arrivo, ancora vantaggio per Singamba, Castaldo, che sembrava ferma agli 800 conclusivi, va a vincere alla grande nelle mani di Ciro Perfetto, che esulta, mentre un ottimo Belgiacomino Parc conquista la piazza d'onore davanti a Brevard Grif, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,12,5-1,12,6 sul doppio chilometro. Metia sensazionale per una corsa del genere, scaturita, provocata anche dalla fuga in avanti di Brevard Grif, ma a vincere è Castaldo Cass, una forma superlativa per questo figlio di Equinox B e Ittica Cass, di cui Sabato Bevilacqua e Nunzio Squeglia sono allenatori colori del signor Etienne Grima. Grazie a tutti.